Troviamo nella cornice del seminario arcivescovile dove si è tenuta la tre giorni del clero l'appuntamento di inizio anno pastorale per tutti i sacerdoti presenti in diocesi a Bologna con il loro arcivescovo. Qui con me Monsignor Andrea Cagnato, direttore di 12 porte, con lui ripercorreremo gli eventi principali di questa giornata, cominciando proprio da martedì mattina, Don Andrea. Sì, tre giorni del clero potremmo sintetizzare dal giubileo della misericordia al congresso eucaristico diocesano. Voi sapete che quando c'è l'anno 7, quindi l'anno prossimo è il 17, la diocesi di Bologna entra nel congresso eucaristico. E sono i due grandi appuntamenti che fanno da sfondo a tutta la riflessione pastorale che per la prima volta quest'anno è stata presieduta dall'arcivescovo Matteo Zuppi. Innanzitutto nella prima giornata, quella di martedì come ricordavi, due relazioni che hanno fatto da sfondo a tutti i lavori. Quella del Vescovo di Foligno, Monsignor Gualtiero Sigismondi, le frontiere della conversione missionaria della pastorale e poi l'arcivescovo di Modena a Nonantola, Monsignor Erio Castellucci, sino dall'Ità, dall'Ecclesiologia del Vaticano II alla Evangelii Gaudium. Questi due interventi contengono molte delle parole chiave, per così dire, in estrema sintesi, sulle quali poi i sacerdoti hanno riflettuto. Innanzitutto vi ricordo che in particolare la relazione di Monsignor Sigismondi la trovate integralmente sul nostro sito internet, ma direi che possiamo vedere subito l'intervista che abbiamo realizzato con Monsignor Sigismondi e Monsignor Castellucci. E' stato il Vescovo di Foligno, Monsignor Gualtiero Sigismondi, a proporre la riflessione di apertura della Tre Giorni del Clero, le frontiere della conversione missionaria della pastorale, facendo eco alla esortazione Evangelii Gaudium di Francesco e all'invito che lo stesso Papa ha rivolto alla Chiesa italiana nel convegno di Firenze di ripensare tutta l'attività pastorale come uscita e evangelizzazione. L'intervento del Vescovo di Foligno parte da un'affermazione di Atti degli Apostoli che ritorna a noi sotto forma di interrogativo. La parola di Dio cresceva e si diffondeva. Nel libro degli Atti troviamo questa espressione più volte. Esprime lo stupore degli Apostoli che nonostante la persecuzione vedono che la parola di Dio cresce, si diffonde, viene glorificata. Nel libro degli Atti questa espressione è un'esclamazione. Per noi diventa una domanda, ma la parola di Dio cresce, si diffonde. Questo dovrebbe essere l'interrogativo che dovrebbe accompagnare qualsiasi ordine del giorno dei nostri organismi di partecipazione. Nella speranza che questa domanda possa tornare alla sua vocazione iniziale, essere un'esclamazione. La Chiesa cresce nella misura in cui ascolta la parola, l'accoglie, la custodisce, la testimonia. Questo vale per tutti, in modo particolare per i ministri ordinati, i quali debbono osservare questa regola fondamentale che potrebbe essere espressa così. La prima opera pastorale è la cura della vita interiore. occorre rimettere a fuoco questa regola pastorale fondamentale perché al di fuori di questa regola troviamo solo il moltiplicarsi di iniziative prive di iniziativa. Ci si affanna, si diventa stanchi e soprattutto non si raggiunge l'obiettivo far sì che la parola di Dio cresca e si diffonda. Papa Francesco, in una esortazione rivolta ai preti, dice che ciò che non si ama stanca. Ed è vero, tanta stanchezza pastorale nasce dal fatto che non si ama anzitutto e soprattutto la parola di Dio che va interpretata stando in mezzo al popolo di Dio perché se è vero che la parola di Dio ci aiuta a leggere la vita è altrettanto vero che il popolo di Dio ci aiuta a interpretare le scritture. Conversione missionaria della pastorale dunque o Chiesa in uscita come ama ripetere spesso Papa Francesco. Nel linguaggio della Chiesa si sta diffondendo l'espressione conversione missionaria della pastorale e la parola d'ordine di questa conversione missionaria ce la sta indicando il Papa con il verbo uscire che è la vocazione propria della Chiesa che è nata in uscita quando dal cuore di Cristo sono usciti sangue ed acqua. E tutto il libro degli atti racconta l'uscire della Chiesa dal cenacolo verso le direzioni che lo Spirito ha indicato con la sua rotta ai discepoli. Conversione pastorale dice dunque alla Chiesa la sua vocazione propria. Non si tratta di inventare nulla di nuovo la Chiesa è se stessa nella misura in cui va incontro agli uomini non con la pretesa di conquistare nuovi territori non con la pretesa di difendere i propri confini ma custodendo una semplice attesa quella di far sentire l'abbraccio della sua maternità perché la Chiesa annunciando il Vangelo ci aiuta a scoprire quanto è vero che il Vangelo ci permette di raggiungere la nostra piena umanità ci umanizza. La registrazione integrale dell'intervento di Monsignor Sigismondi è disponibile sul nostro canale YouTube 12 Porte Bo. Nella seconda relazione l'Arcivescovo di Modena Monsignor Erio Castellucci ha fatto una rilettura della riflessione sulla Chiesa dal Concilio Vaticano II alla Evangelii Gaudium di Francesco La Chiesa è comunione certo ma sempre in una prospettiva missionaria La Chiesa come comunione è il centro ovviamente della nostra esperienza noi miriamo a fare comunione prima di tutto il rischio se non la intendiamo dentro un orizzonte missionario è che facciamo una sorta di intimismo comunitario cioè ci preoccupiamo più di suddividerci gli spazi di attribuirci le competenze di risolvere i conflitti interni che non di essere missionari quindi per questo ho insistito sul fatto che è una comunione missionaria dove dettare l'agenda della comunione è la missione e così si relativizzano anche alcune beghe interne che a volte prendono troppo tempo Sinodalità camminare insieme sulla via che è Cristo un termine spesso utilizzato per descrivere la vita della Chiesa Il fondamento è lo stesso essere della Chiesa perché i padri dicevano che la Chiesa è sinodo cioè è cammino insieme, cammino con Cristo Il fondamento pratico è dato dal fatto che con il battesimo ci viene trasmesso attraverso lo Spirito anche un senso di fede il sensus fidei che ci aiuta come battezzati ciascuno secondo il proprio compito cioè i pastori come guide i laici come corresponsabili a costruire insieme la Chiesa e a portare il Vangelo al mondo Organismi di partecipazione consigli pastorali ai vari livelli corresponsabilità ecclesiale è il momento di una verifica Credo che la verifica possa essere fatta nella prassi su quanto riusciamo a utilizzare questi organismi e quindi a viverli non solamente come organismi che devono prendere delle decisioni operative nelle quali è ovvio occorre collaborare ma anche e prima di tutto come organismi di discernimento cioè di pensiero, di riflessione di aiuto reciproco a capire la realtà e soprattutto a capire come portare il Vangelo in questa realtà Grazie a tutti Grazie a tutti